Il mio nome è Luigi Laforgia, frequento la classe 4a F di telecomunicazioni qui all'Istituto di Spacinotti. Trovo questa esperienza molto interessante e altamente formativa, in quanto le metodologie che ci sono state poste sono altamente interessanti e di grandissima attualità. In particolare, trovo molto interessante nell'ambito dell'innovazione, non solo le caratteristiche che abbiamo affrontato, ma in particolare anche come gli insegnanti e il progetto stesso sia stato un approccio e condivisione con le nostre menti.